La condanna è stata confermata in appello seppure ridotta a un anno e qui lì non c'è il primo paradosso perché la sospensione è durata più di quella che è stata la condanna, la pena elittale prevista dalla magistratura. Poi c'è stato il ricorso in Cassazione, lì lo scoglio era l'inammissibilità del ricorso perché quasi il 70% dei ricorsi in Cassazione vengono ritenuti dalla Suprema Corte come inammissibili e questo, come ha detto Benetù, avrebbe significato la caduta del Consiglio Comunale. Il ricorso è stato dichiarato ammissibile, in molti pensavano che la Corte di Cassazione si sarebbe semplicemente limitata a dichiarare la prescrizione, l'avvenuta prescrizione. In realtà, e anche questa è una cosa che, come hanno detto i miei avvocati Cagliazza e Panella, che ringrazio per il loro lavoro, avviene una volta su 100, la Cassazione, nonostante il reato fosse prescritto, è voluta comunque entrare nel merito. E ha dichiarato l'assoluzione per tutti gli imputati perché, diciamo, il fatto non si è consumato, dicendo di fatto che questo era un processo che non doveva neanche iniziare. E rispetto a questo processo che non doveva neanche iniziare, tuttavia, la città è stata privata del sindaco che ha democraticamente eletto e di parte dell'amministrazione comunale per quasi due anni. Questo è il più grande rammarico che c'è dietro questa vicenda. Ma per un lato, nel momento in cui è arrivata questa batossa, possiamo dire, politica, perché poi un sindaco che vive anche d'immagine, la famiglia, i figli, cosa hai provato? Come l'hai vissuta questa storia? Non è stato affatto facile. Devo dire che, da un lato, ho sempre continuato a percepire l'affetto dei miei concittadini, perché seppure con grande sforzo interiore ho continuato a vivere la città, forse di più rispetto a quanto non avessi fatto prima, in tutte le sue pieghe, le sue piaghe, le sue realtà sociali e territoriali, e ho sempre avuto dai miei concittadini grandissimo sostegno e grandissima fiducia. Però allo stesso tempo capisci bene, guardandoli negli occhi, che qualcuno di loro magari un dubbio ce l'ha. E si domanda se il sindaco che ha eletto è una brava persona, oppure forse. Quindi rimane il dubbio? No, non rimane il dubbio, ora ovviamente con una sentenza di assoluzione che restituisce... Ma nel pensiero dei cittadini si cancella totalmente, secondo te? Nel pensiero dei cittadini si cancella totalmente perché la Corte di Cassazione non si è limitata a dichiarare la prescrizione, ma ha detto chiaramente che quel processo non doveva iniziare. E per me, insomma, è stato molto importante, soprattutto anche per restituire in parte il dolore che la famiglia ha subito in questi anni. Tu eri... quando c'è stata la soluzione, dove eri? Eri lì? Ero lì, ero lì, in Corte di Cassazione, sì. Cosa hai provato in quel momento? Beh, c'è stato un pianto liberatorio, non lo nascondo perché l'emozione è stata tale che in qualche modo ho tirato fuori un po' tutte le emozioni e i sentimenti, lo stress, l'ansia che cercavo di tenere a bada nei mesi e negli anni precedenti. Perché quando sei padre di due figli e sei anche marito, ma sei anche figlio, devi in qualche modo cercare di proteggere la tua famiglia anche da quelli che sono i tuoi stati d'animo e le tue paure. E insomma quella notizia è stata una liberazione, la soluzione è stata una liberazione e diciamo mi ha consentito di liberare... Quanti anni di figli e due figli hai? Due figli, sì. Quanti anni? Sette e cinque e mezzo. Cosa ti hanno detto appena è arrivata? Beh, loro l'hanno vissuta in maniera un po' particolare, forse sono quelli che hanno beneficiato un po' di più di questa sospensione, perché io spesso dico sono diventato papà dopo essere stato sospeso. Tutte le cose che prima faceva soltanto mia moglie poi le abbiamo fatte in due e quindi ho scoperto dei mondi a me sconosciuti, come quello della scuola, quello dello sport, del calcio, del catechismo, delle attività connesse a loro. Ho fatto quelle cose normali e quotidiane che prima inspiegabilmente non facevo e che oggi, nonostante sia rientrato a fare il sindaco, continuo a fare.